Per quanto riguarda la marcia per la salute, la manifestazione sotto a Palazzo del Pincio, i manifestanti non hanno niente da insegnare a questa amministrazione per quanto riguarda l'ambiente? Assolutamente no. Intanto diciamo che ognuno è libero di manifestare e protestare come vuole e credo che la forza della democrazia sia anche questo rispetto a tutte le manifestazioni che vengono. Quelli civili educati, non quelli che riempiono di improperi e di parolacce, voglio dire, l'amministrazione comunale e il sindaco in particolare. Per quanto riguarda viceversa la questione dell'ambiente, se vogliamo parlare seriamente di ambiente, questa amministrazione ci ha messo le mani veramente. Abbiamo nominato prima di tutto, non più lottizzato, il presidente osservatorio ambientale che è responsabile della qualità dell'area a livello nazionale Istituto Superiore della Sanità. Istituto Superiore della Sanità che è la più grande istituzione sanitaria in Italia, il pubblico. E quindi col Ministero dell'Ambiente e soprattutto con il presidente abbiamo concordato insieme ai sindaci di tutto il tiriore proprio ieri, votato all'unanimità, l'incarico di aprire un tavolo serio, vero, coscienziati rappresentanti di tutte le sensibilità ambientaliste, comunali, regionali, ministero, regione e provincia in modo tale che tutti insieme possano mettersi seduti a un tavolo e dire chiaramente come stanno le questioni sotto il profilo ambientale, pur tuttavia. Proprio per questo noi apriremo un tavolo pubblico di tecnici, di scienziati, rappresenteranno tutti. Dopodiché che questo tavolo avrà informato noi e la città di come sono le cose, apriremo in consiglio comunale un dibattito, ma su basi scientifiche, e se assumeremo tutte le iniziative che i nostri tecnici ci consentiranno. Sarà quello di riapertura dell'AIA, sarà quello di andare a verificare la riduzione, faremo tutto quello che ci verrà consigliato.